Anatomia, apparato locomotore. Con questa lezione inizieremo a vedere l'apparato articolare, quindi le articolazioni del corpo umano. Con la precedente abbiamo visto il sistema scheletrico, quindi tutte le ossa del nostro corpo e vedremo anche altri video a seguito. Con questa lezione inizieremo a parlare delle articolazioni del corpo umano che nel complesso formano quello che è l'apparato articolare e assieme alle osse, all'apparato osteo articolare e poi con i muscoli, praticamente all'apparato locomotore che ci consente di muoverci, tra le varie. Prima però di parlare delle articolazioni del corpo umano è bene che voi conosciate i movimenti del corpo umano, che il corpo umano può fare. Questi movimenti hanno dei nomi ben precisi, utilizziamo per questo una nomenclatura ben precisa e che dovete conoscere perché se non li conoscete poi quando andremo a trattare le articolazioni e vi dirò che consentono l'uno o l'altro movimento, allora poi non ci capite niente. Va bene, qui come al solito vi metto i soliti tre punti, se avete bisogno di altri videocorsi o di corsi di anatomia più approfonditi o di altro che sia, avete i miei dati in descrizione, nei commenti, in descrizione, nel video è tutto. Continuiamo con la lezione. Quindi i movimenti del corpo è un preludio a quello che poi è lo studio delle articolazioni, perché le articolazioni sono delle strutture complesse che ci consentono anche di poterci muovere, ovviamente grazie alla loro capacità di essere articolazioni mobili, quindi non abbiamo soltanto articolazioni mobili, non abbiamo soltanto quelli, poi lo vedremo meglio, lo vedremo bene con le altre lezioni. Ecco, per il momento però, ecco, grazie poi ovviamente alla contrazione muscolare e alla mobilità delle articolazioni, possiamo muoverci e possiamo fare tutta una serie di movimenti rispetto a quelli che sono i piani del corpo che vi ho insegnato nella prima lezione di questo videocorso di anatomia umana e che assolutamente dovete conoscere, quindi vi consiglio di andarvi a riprendere la prima lezione dove andate a riprendere i piani del corpo umano, se non li ricordate. E quindi, come ricorderete, tra le varie avevamo parlato del piano sagittale, del piano frontale o coronale, del piano trasverso. Io qui non mi dilungo molto perché queste cose le ho già spiegate, quindi ho soltanto un richiamo per direvi, andatevi a rivedere praticamente la prima lezione di questo corso, le prime lezioni di questo corso. Qui vi ho fatto un piccolo elenco di quelli che sono i principali movimenti, flessione, estensione, iperestensione, abduzione, adduzione, circonduzione, rotazione, pronazione, supinazione, retrazione, elevazione, depressione, inversione e via altri movimenti vari, che poi vedremo, ecco, sono soltanto alcuni dei movimenti, questi sono i principali più importanti. Vi ho descritto brevemente, ecco, ognuno dei principali movimenti, ovviamente il corpo umano non è in grado di fare soltanto questi movimenti, ma sono i principali. Innanzitutto per cercare di comprendere quelle che sono le funzioni del sistema osto-articolare, poi nel suo complesso, dovete considerare queste strutture qui come se fossero delle leve, praticamente, altro che non c'è che alla base la fisica delle leve, dove l'articolazione ne rappresenta il fulcro. State bene attenti, quindi, io spero abbiate studiato le leve, le si studiano alle scuole superiori, le si studiano anche alle scuole medie, quindi mi raccomando, state attenti perché ci si basa, ecco, su quella che è la logica delle leve. Allora, vediamo un po' i movimenti di flessione ed estensione.